niki giusino il disturbatore televisivo per la tromasia www.niki giusino.it è mercoledì 13 agosto 2014 e sono venuto qui a 1800 metri d'altezza questo è praticamente il segnalatore fino a dove arriva la neve la neve arriva fino a qui 1800 metri d'altezza pensate sono venuto qui con la maglia e beh va 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 per dedicarvi un bel proprio di cuore ma di cuore di quelli che dici sto meglio un bel va 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 affanculo devi andare proprio di cuore a 1800 metri d'altezza niki giusino.it salve